Finanziare a regionale ancora lungo il percorso per l'approvazione. La stangata della Tares a Palermo costerà tra il 20 e il 25% in più. 8 condanne per oltre 40 anni di carcere. Questa è la sentenza contro la banda delle tabaccherie di Bagheria. Buon pomeriggio, bentrovati. Questa è Media News, oggi venerdì 19 aprile. Parliamo in apertura della finanziaria regionale. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone da Roma ha dichiarato inammissibili i quattro degli articoli del maxi emendamento. Il testo rimane comunque rivolto alla riduzione della spesa. Vediamo. Dopo la bocciatura in Commissione Sanità, il no questa volta arriva anche da Roma e proviene dal presidente dell'Arso Giovanni Ardizzone, impegnato con crocetta nelle votazioni del presidente della Repubblica. Secondo il presidente dell'Arso, il testo presenta norme condivisibili, ma è strane alla finanziaria in discussione. Ma le carte parlano di grossi tagli, grazie ai quali, secondo quanto riportato nel testo, nel triennio 2013-2015 verranno recuperati circa 6 miliardi di euro, più o meno 2 miliardi all'anno. Gli effetti della spending review si ripercuoteranno su tutti gli assessorati, un po' meno però sulle spese della presidenza della regione che ha previsto spese per quasi 2 milioni e mezzo di euro per gli uffici di gabinetto, 25 mila euro per pareri e studi e 100 mila per i consulenti del presidente della regione, qualche taglio anche per i viaggi del presidente. Ridotti i fondi anche per il sociale, con i centri antiviolenza per le donne, le scuole, le università e la cultura, sono diminuiti di molto i fondi per i teatri. Scendono anche i contributi alle organizzazioni che contrastano il pizzo e le agevolazioni fiscali nei confronti degli imprenditori coraggiosi, azzerato il capitolo destinato ai consultori, tagli anche per i sussidi alle famiglie meno ambienti per favorire la maternità. Sono stati trovati invece i fondi per il rinnovo dei contratti dei precari, si parla di lavoratori della protezione civile, dell'assessorato ambiente e territorio, LSU, IPIP di Emergenza Palermo, CEF, PAS, Antiparco, Consorsi di Bonifica e Camere di Commercio, poi ancora Personale EAS ed ESA. Nella finanziaria poi è prevista anche l'istituzione del Fondo per il Microcredito e le imprese, che potranno soffrire di un massimo di 7 mila euro e che sarà finanziato da donazioni volontarie, in pratica dal taglio alle indennità dei deputati, finora solo i grillini. Oggi Lars lavora in commissione bilancio, che per rispettare i tempi strettissimi sarà impegnata anche sabato e domenica. Oltre un migliaio di edili della CISL sono scesi in piazza, oggi per la mobilitazione straordinaria di protesta indetta dalla Filca CISL Sicilia, insieme con la CISL Sicilia, il presidio davanti alla sede della presidenza della regione Palazzo d'Orlean. Con questa mobilitazione ha detto Maurizio Bernava, a segretario generale della CISL Sicilia, noi vogliamo fare irrompere la sofferenza del lavoro produttivo nelle stanze della politica. Il governo regionale su questo ha chiuso gli occhi e a oggi non abbiamo compreso quali siano le strategie che intende adottare per rilanciare lo sviluppo vero della Sicilia a partire dal comparto delle costruzioni. Secondo il segretario della CISL, l'esecutivo regionale non deve perdere tempo e deve aprire immediatamente un tavolo permanente sull'emergenza dell'edilizia. Accelerare l'utilizzo delle risorse europee già stanziate, disponibili 41 milioni di euro per la Sicilia, attraverso il piano d'azione e coesione PAC-ADI, che altrimenti verrebbero reindirizzati. E' questa la richiesta avanzata dai sindacati dei pensionati di CIGEL, CISL, WIL, SPI, FNP e WILP, che, riuniti a Palermo, hanno affrontato i temi legati alla spesa della somma da destinare ai servizi per gli anziani non autosufficienti, in primo luogo all'aumento dell'assistenza domiciliare integrata. Il rischio vero è che questi fondi vadano perduti per la nostra isola, la sottolineano i sindacati, gli stanziamenti quindi verrebbero reindirizzati verso altre linee di intervento. In Sicilia oltre il 67% dei pensionati vive con una media di appena 500 euro al mese. Un ingente schieramento di forze dell'ordine ha cinto d'assedio tutta l'area intorno alla base NRTF della Marina Militare Americana incontrata Ulmo a Niscemi, impedendo ai cittadini italiani di muoversi liberamente nella zona, così il coordinamento regionale dei comitati no muos in una nota diramata questa mattina in cui si denuncia che lo scopo è evidente di consentire il transito di un convoglio composto da diversi mezzi che trasportano operai, tecnici e materiali diretti al cantiere muos in barba alla revoca delle autorizzazioni. Nonostante le difficoltà proseguono i no muos, attivisti e mamme sono riusciti a impedire il passaggio di quattro mezzi. Ricordiamo a tutti, concludono che continuare i lavori dopo la revoca delle autorizzazioni è reato e chiediamo che mandanti ed esecutori materiali di tale reato siano perseguiti dalla legge. Cambiamo argomento, la stangata della Tares a Palermo infatti costerà tra il 20 e il 25% in più rispetto alla Tarsu. La stangata in arrivo della Tares a Palermo peserà sulle tasche dei contribuenti del 20-25% in più rispetto alla Tarsu. Per un appartamento di 100 metri quadrati si può ipotizzare una Tares di 264 euro contro una Tarso di 218. Sono alcune delle anticipazioni di uno studio nazionale redatto dalla Feder Consumatori che mette a confronto le tariffe e servizi di gestione in rifiuti urbani nelle principali città capoluogo d'Italia. Il nuovo tributo per il trattamento dei rifiuti solidi urbani che si dovrà pagare per qualsiasi tipo di locale o area scoperta scatterà a partire da dicembre 2013. Una batosta che colpirà le tasche dei cittadini e che creerà nuovi disagi alle fasce di reddito più basse e già fin troppo tartassate, dichiara il segretario della CGL di Palermo Maurizio Calà. Chiediamo per questo la tutela del reddito, la riorganizzazione del sistema dei rifiuti, garanzie per i lavoratori e l'utilità del servizio di raccolta di rifiuti erogato che in questo momento a Palermo rappresenta l'emblema del fallimento. La batosta è solo rimandata, aggiunge Lillo Vizzini, presidente regionale di Feder Consumatori. Dai calcoli che abbiamo fatto si ipotizza che il nuovo balzello della Tares costerà più del 20% in più della Tarso, con punte che potrebbero arrivare al 30%. Se in Sicilia si continuerà a conferire il 90% del rifiuti in discarica, la nuova tariffa risulterà molto più pesante. Chiediamo quindi la partenza immediata dalla raccolta differenziata, un trattamento del rifiuti a chilometri zero, con dei centri di raccolte vicino alla città organizzati con la presenza di silos e dotati di microchip per creare un sistema di premialità. La FIOM nazionale e la CGL di Palermo, alla luce degli arresti e dei sequestri scaturiti dall'indagine sulle infiltrazioni mafiose al cantiere navale di Palermo e sul territorio nazionale, ravvisano la necessità di predisporre un protocollo nazionale di legalità presso il Ministero dell'Interno con le prefetture interessate, il sindacato e fincantieri per costituire, si legge, un sistema di controllo e monitoraggio in una logica nazionale del sistema degli appalti della Fincantieri e per fronteggiare con una maggiore consapevolezza e conoscenza le possibili infiltrazioni criminali. E adesso ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. È arrivato il digitale terrestre, basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre tv sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 197. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Otto condanne per oltre 40 anni di carcere. Questa la sentenza contro i componenti della banda delle tabaccherie e non solo, che è stata attiva per alcuni mesi a Bagheria. Vediamo. In pochi mesi misero a segno nove rapine, mettendo in agitazione i commercianti di tutta Bagheria, specialmente i tabaccai. Il giudice Vittorio Anania non si è risparmiato e ha condannato otto persone. Giovanni Bravo ha cinque anni, Francesco Croce ha tre anni e quattro mesi, Nicolo Lanza ha due anni e sei mesi, Gregorio Mineo ha cinque anni, Mirko Talamanca ha cinque anni, Rosario Schillaci ha sette anni, Emanuele Schillaci ha sette anni e Luca Vella ha quattro anni. E poi c'è una donna, imputata in un altro processo, che avrebbe utilizzato il figlio piccolo per facilitare la realizzazione delle rapine. Insospettabile, entrava con il bimbo piccolo nelle tabaccherie come una normale cliente e invece era lì per studiare i luoghi in vista del prossimo colpo. Nel Mirino erano finiti la tabaccheria del corso, bersaglio di tre rapine, il Super Cinema, il negozio di detersivi Futura, un distributore di benzina Kuwait, la rivendita di tabacchi, Salerno e gli sportelli di Credem e Unicredit. Le indagini dei carabinieri sono state notevolmente agevolate dai sistemi di videosorveglianza. Secondo il giudice, la mente della banda sarebbe stato Rosario Schillaci che nella sua fedina penale annoverava già vari precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. E ancora un grave fatto di cronaca, in un negozio di Corso Umberto a Bagheria alcuni malviventi hanno sfondato con un'auto rubata e una trava in legno la vetrina del negozio di telefonia Wind e hanno fatto razzia di telefoni cellulari. I ladri hanno agito indisturbati anche per la chiusura del corso deserto. L'episodio rilancia la discussione sulla riapertura del corso al traffico veicolare. I commercianti hanno chiesto almeno che venga riaperto nelle ore notturne per evitare di lasciare praticamente Corso Umberto alla merce dei ladri. Al fianco dei commercianti qualche giorno fa è sceso in campo anche il parroco della chiesa di San Sepolcro, Filippo Custode. Anche il sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo, durante l'ultimo consiglio comunale aveva sostenuto che avrebbe sentito i responsabili delle forze dell'ordine per una apertura eventuale del corso nelle ore notturne che alla luce dell'ultimo fatto diventa necessaria. Tagliandi falsi per parcheggiare sulle strisce blu in centro a Palermo. Lo ha scoperto la polizia municipale che ha denunciato una donna di 23 anni residente in via della Libertà che avrebbe avuto una vera e propria scorta di ticket non regolari per poter così posteggiare gratuitamente. Il raggiro è stato scoperto da un ausiliare del traffico che nel corso dei consueti controlli si è accorto della cosa segnalando il fatto ai vigili urbani. Da lì è partita l'indagine che poi è sfociata in questa denuncia. Tagliate le gomme dell'auto del segretario della filte CGL Gaetano Bonavia. L'auto una Audi era parcheggiata davanti alla sede Amat di via Roccazzo. Il danneggiamento delle quattro ruote risale a questa mattina. Nell'arco di un mese è il secondo atto intimidatorio che segue quello subito a fine marzo dal segretario della CISL Trasporti Salvatore Girgenti. Entrambi sono avvenuti dopo la firma dell'accordo sindacale siglato il 20 marzo scorso tra l'azienda ECGL, UIL, CISL e ORSA con l'opposizione di due sole sigle UGL e COBAS che ha previsto la riorganizzazione dell'officina con l'eliminazione dei turni notturni. Cambiamo argomento. Si è tenuta questa mattina la marcia delle scolaresche bagheresi per commemorare padre Pino Puglisi in vista della sua beatificazione. Ascoltiamo. Questo corteo che per la sua imponenza è quasi commovente dimostra ancora una volta come la scuola sia forse la principale risorsa di questo paese e se la scuola riesce a fare queste cose cioè riesce a mobilitare sui valori importanti delle nuove generazioni sicuramente c'è speranza. Una delle mamme che ha partecipato all'organizzazione di questo corteo. Sì, buongiorno. Non solo sono una delle mamme ma anche una delle insegnanti della scuola Puglisi. La Tommasa Aiello col plesso Puglisi ha deciso quest'anno di ricordare più in grande la figura di padre Puglisi. Anche perché ci sarà la prossima... La beatificazione è il 25 maggio allo stadio di Palermo. Noi ogni anno in realtà ricordiamo ai bambini questa figura per i valori che ha portato avanti perché la scuola è intitolata a lui. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere anche tutto il comune con le scuole, tutte le associazioni di volontariato. Abbiamo invitato dei magistrati che sono stati disponibili a partecipare per un confronto. Abbiamo pure indetto un concorso tra tutte le scuole di bagheria di ogni ordine e grado. E' stata fatta una mostra a Palazzo Couto e per questo infatti dobbiamo ringraziare anche il comune per la collaborazione che ha dato per montare i palchi e tutto. E' era padre Puglisi? Era un prete che lottava, che voleva che i ragazzi frangandessero la sua chiesa e lottava contro la mafia. Che lavorava in un quartiere edificio? Un quartiere edificio. Infatti noi giovani siamo qui riuniti e compatti per dirgli che da qua giù con lui non è solo. E' per continuare il lavoro che lui ha iniziato. Sarà al momento sospesa l'efficacia delle lettere di licenziamento notificate ai 190 lavoratori a tempo determinato del CoinRace, il consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti nella provincia di Palermo, fino a quando l'avvertenza sarà affrontata definitivamente nel corso di un vertice che si terrà il prossimo 2 maggio nella sede dell'assessorato all'energia, alla presenza dell'assessore marino, dei sindaci, dei vertici del consorzio e delle parti sociali. A renderlo noto è Francesco Ferrara, segretario provinciale della FIT CISL. E adesso ci fermiamo per una seconda pausa pubblicitaria tra poco. È arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Cammina, marcia, corri, vieni con noi. Uno slogan deciso, volto a un coinvolgimento necessario per diffondere la conoscenza di una malattia, il Parkinson, di cui spesso si sa troppo poco. La mancanza di informazione genera pregiudizi e confusione. Muri apparentemente invalicabili con l'intento di abbattere questi muri mediatici. Domenica prossima, 21 aprile, a partire dalle 9.30, con Raduno a Piazza Castelnuovo, anche a Palermo prenderà il via la quarta edizione di Run for Parkinson's, la maratona benefica che contemporaneamente si correrà nelle piazze di tutto il mondo. Complessivamente nel globo verranno percorsi 300.000 chilometri. I protagonisti di questa marcia sono persone affette dal morbo di Parkinson. A Villa Abate si è svolto il secondo incontro del progetto Logopedia, parliamone un po'. Le interviste. Questo è il secondo incontro del progetto Logopedia, parliamone un po'. In realtà però è come se fosse il primo, infatti oggi verrà presentata tutta l'equipe al completo. Oltre a noi logopediste, quindi a me, Rizzo Medio Teresa e Simona Fiumara, ci saranno presenti anche la psicologa e psicoterapeuta in formazione Lorena Affronti, la pedagogista Alessandra Maddio, l'ostetrica Simona Lunardi, le due odontoiatre Giorgia Sabatini e Claudia Cusimano e la psicomotricista Angela Di Chiara. Questo per garantire una presa in carico globale del paziente, visto che molte patologie che riguardano la logopedia comunque prevedono l'intervento di varie figure specialistiche. La degludizione, che è un processo neuromuscolare che ci permette appunto di assumere cibo e quindi è indispensabile per la nostra esistenza, può essere patologica nel caso in cui il bambino, infatti si parla appunto di degludizione atipica infantile, non acquisisce appunto i corretti movimenti della lingua o comunque i corretti engrammi motori e quindi mantiene quelli che sono quelli infantili. Per questo si parla poi del patologico e quindi di degludizione atipica. Oggi ho accettato con molto entusiasmo questo invito perché l'odontoiatre infantile è una specialità poco conosciuta e invece è molto importante che i genitori sappiano fin dai primi giorni quali sono i consigli e soprattutto gli atteggiamenti corretti per mantenere la salute orale dei loro piccoli. Volevo informarvi con questa piccola presentazione sulla importanza della funzione correlata alla struttura sia del volto che alla masticazione. È importante che una bocca funzioni bene perché questo può essere anche importante proprio per la salute anche della schiena, non soltanto del distretto facciale. È estremamente correlata la funzione masticatoria anche alla respirazione, oltre che alla fonazione e quindi per lo sviluppo di un bambino è fondamentale attenzionare questo problema nei particolari e nei dettagli perché una diagnosi accurata ci permette anche una terapia accurata e mirata. L'associazione culturale Malusen organizza per oggi un incontro sulla vivibilità nel centro storico di Palermo. Situazione, proposte e prospettive. Interverranno Agata Abazzi, assessore al centro storico, Giusto Catania, assessore al decentramento, Alberto Mangano, presidente della commissione urbanistica, Paola Miceli, presidente della prima circoscrizione. L'iniziativa si terrà presso la sede dell'associazione in piazzetta Resultano 4 alle 5 del pomeriggio. Voltiamo pagina. Oggi esce Rewind, il disco d'esordio dei vincitori del premio internazionale Massimo Urbani 2012, e cioè il trombettista Giacomo Tantillo e il sassofonista Francesco Patti. Disponibile nei negozi tradizionali su iTunes e negli altri digital store, Rewind vede come ospite d'eccezione il batterista Stefano Bagnoli. Abbiamo ascoltato Giacomo Tantillo. La musica Mdo Jets Record che ci ha dato la possibilità di incidere questo disco e quindi abbiamo deciso insieme a Francesco Patti di realizzare questo disco in quintetto, una formazione in quintetto standard jazz. Oltre a voi? Oltre a voi, cioè oltre a noi, Giuseppe Cucchiara al contrabbasso, Sebi Burgio al pianoforte, ospite del disco Stefano Bagnoli alla batteria, uno dei più grandi batteristi italiani. Una domanda ti volevo fare, si tratta di brani nuovi o avete rielaborato dei classici del genere? Allora, riguardo ai repertori abbiamo inserito un brano di mia composizione e un brano di Francesco Patti, quindi abbiamo due brani inediti e sei standard che appunto, diciamo, degli standard passati, ecco, della tradizione antica, come compositori come Charlie Mingus, Chet Becker, Joe Beam, dei brani appunto rivisitati con qualche piccolo arrangiamento, ma che mantengono comunque la tradizione. Finale fissata per questa sera alle 20 nella Sala Super Cinema di Bagheria, il Festival Artista 2000, ripartito con entusiasmo ed energia grazie all'iniziativa di Gio Puleo e Paolo Ventra, vincitori di Sanremo Giovani, nell'edizione del 1983. Dopo le selezioni e le semifinali, oggi sarà decretato il vincitore che potrà partecipare direttamente alla fase finale del 56esimo festival di Castrocaro. Nient'altro per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguiti, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.